Eccoci qui a presentarvi la seconda tappa di 343, siamo a Borgata Marina di Torino di Sangro. Ringrazio innanzitutto il sindaco e l'amministrazione comunale, nelle persone di Antonio e Claudio, assessore allo sport e al turismo, che ci hanno apporto veramente a braccia aperte per questa seconda tappa, come dicevo, di 343. Torino di Sangro, lavorando all'agremente, con intelligenza, con gli assessori allo sport e l'assessore al turismo, finalmente si è portato anche qui a Torino di Sangro il triathlon, quindi voglio ringraziare tutti gli organizzatori. Torino di Sangro è il fiore all'occhiera della costa di Trabocchi e noi siamo qui. Dobbiamo accogliere, dobbiamo organizzare, dobbiamo cercare di valorizzare questo territorio. Abbiamo due lungomari, Lungomare Le Morge e Borgata Marina, ripartendo dal nostro centro storico, per il barzo Donato Iensi, le nostre due chiese. Abbiamo organizzato un calendario estivo dal mitico Giovanni Cacioppo di Zeli, che forse ci sarà una sorpresa del nostro artista Donato Renzetti, che farà un concerto qui a Torino di Sangro, alla Corri Giovannotti. Sarà un'estate all'immensa dello sport, del nuoto, della bodistica, del ciclismo e degli spettacoli. Salve a tutti, eccoci alla seconda prova. Come sempre partiamo con la frazione di nuoto, che è di 750 metri circa, davanti allo stabilimento Costa Verde. Dopo la frazione di nuoto prenderemo le bici e costeggeremo il fiume Sangro per immetterci a una parallela della via verde, passando davanti alla chiesa e entrando nella vecchia stazione di Torino di Sangro per poi attraversare di nuovo la via verde e ritornare per il lungomare per cinque giri. Dopodiché lasciamo le bici e facciamo la frazione polistica. Due giri per il lungomare. Grazie a tutti.